Amici youtuber, giovedì 4 novembre, ancora a Porcini, sempre io e Antonio. Allora, siamo appena arrivati, ho trovato uno più scarsetto, piccolino, e uno bello. Ok, ecco un altro, dai, discreto, per essere 4 novembre, che vuoi? Qui ce n'è un altro, eccolo qua. Vai Antonio, va bene, neghi niente, ci devi seguire. Ma chi ce lo so fare? Ancora uno, guardate che bellino, vai. Diciamo che l'abbiamo lasciato una settimana fa. Se glielo diciamo non ci credo, l'abbiamo lasciato venerdì scorso. E ancora è qua, va bene. Dunque, voglio ricordare che è sempre 4 novembre. E ancora qualcosina spunta. Vai Antonio. Bello, questo è il più bello che abbiamo trovato oggi. Un chiusa a nizzo. Vabbè. Un chiusa a nizzo. Un chiusa a nizzo. Un chiusa a nizzo. Grazie a tutti.